Ciao a tutti, io sono Leonardo, Edward Tender e Mr. Fox Residence. Ho avuto l'occasione e il piacere di lavorare con Domenico Cauz, dove ho cominciato con il suo barbecque. Quando sto facendo un menù, però ho difficoltà a trovare degli ingredienti che possono essere all'altezza o che possono essere innovativi e, come ho detto precedentemente, qualcosa che possa somigliare a una kombucha o al tepaci, mi affido a Domenico, un mio grande amico, che in termini di bartender ha molta conoscenza e soprattutto è una persona innovativa con capacità e idee fuori dal comune. Io credo che il progetto Dedicated, alla quale Domenico sta lavorando, sia una cosa molto utile, non solo ai bartender, ma anche alle persone che amano farsi dei drink da casa. È un progetto che mira ad avere dei prodotti freschi e genuini, senza dover intaccare il livello alcolico del cocktail stesso. Un esempio di un drink che mi è rimasto impresso, la parte di Domenico, è un drink fatto con una base di gin, una purè di zucca e zenzero e uno shrub, che è sostanzialmente una parte di aceto, una di zucchero e una di frutti freschi, alla quale era diventato uno dei best seller nel locale dove lavoravamo insieme. Sicuramente un drink genuino, a basso livello alcolico, va fresco, dissetante e super testi. Sono una persona che ama molto le fotografie e in questo caso c'è la collaboratrice non che fidanzata di Domenico Marcella, che è un ottimo fotografa e credo che l'incastrare cocktail di un certo tipo, come quelli che Domenico produce e le foto che Marcella fa, sia un ottimo sviluppo del progetto. Io credo che il bartender ne offriti nel settore, ma anche per quelli un po' più esperti, sia molto utile seguire Dedicated e chiedere anche un confronto o una mano a Domenico perché tratta argomenti interessanti ed è sicuramente una persona che sa quello che fa e quello che dice. Cheers to your health, Dedicated!